Qualche settimana fa, direi un paio di mesi fa, poco prima del digit del 28 ottobre, Repubblica ha pubblicato delle cose che riguardavano gli algoritmi e il mondo del lavoro. Le scorriamo velocissimamente. Nel mondo del lavoro servono evidentemente i dati e servono gli algoritmi. Lo diceva Nicola, non dobbiamo pensare per forza in senso negativo a questa cosa. Pensiamo addirittura che fra due o tre anni al massimo saremo nell'epoca del 5G. Il 5G non sarà soltanto un nuovo protocollo di trasmissione dei dati, più veloce, più efficiente. Non è la versione migliore del 4G o del 3G. Il 5G è il vero internet delle cose. Nel momento in cui saremo dentro quest'epoca, ma veramente fra due o tre anni, in Italia tra l'altro è già cominciata la sperimentazione, sono 5 le città italiane dove è già partita questa sperimentazione e tra l'altro siamo il paese pilota in tutta Europa. Questa è stata una cosa del governo Renzi, io non lo dico per motivi né di campanile né politici, poi siamo in par condicio, però insomma l'hanno ottenuta, hanno ottenuto la possibilità di far fare all'Italia questa sperimentazione. La sperimentazione avviene a Prato, a Bari, a Milano, all'Aquila e a Matera, che è la prossima capitale europea della cultura. Il 5G sarà appunto l'internet delle cose, perché? Perché si abbatteranno in modo sostanziale le potenze, non ci sarà più bisogno dei grandi antennoni, si trasmetterà con potenze davvero molto limitate, ma tutti i nostri posti interni ed esterni saranno completamente mappati da dei sensori e quindi i già tantissimi dati che noi forniamo diventeranno molti, ma molti di più. Tutti questi dati a cui daremo origine in modo quasi totalmente automatico, perché saranno registrati da questi sensori dovranno per forza essere processati dall'intelligenza artificiale, perché già adesso non siamo capaci di gestire moli di dati enormi e quindi abbiamo bisogno delle macchine e quindi andiamo a finire sugli algoritmi e tutto il ragionamento già fatto. Fra due o tre anni sarà praticamente impossibile, i dati generati saranno troppi, non saremo in grado e quindi le macchine dovranno per forza aiutarci, ma è questa la filosofia giusta, le macchine dovranno aiutarci, noi dovremo sempre conoscere, sempre sapere consapevolmente quello che sta accadendo e governarle. Del resto proprio il professor Rasetti, quello che avete visto prima nel video del Politecnico di Torino a Prato il 28 ottobre, ha detto una cosa fondamentale, l'ha detta da neuropsichiatra, lui è un professore che studia il cervello umano dal punto di vista della fisica e lui ha detto che il cervello umano non sarà mai riproducibile da macchine, mai per nessun motivo. Le cose che faceva vedere Nicola davano più o meno lo stesso senso, c'è quella mappatura dell'evoluzione della capacità delle macchine di fare cose. Certo, bisogna arrivare al 2050 per definire la cosa più alta che possa fare una macchina, ma non ha niente a che vedere con le enormi capacità che da sempre il cervello umano può mettere insieme. Quindi di questo non dobbiamo avere paura, delle profezie della fantascienza di Al 9000 non dobbiamo preoccuparci, mi riferisco chiaramente al 2001 di Senello Spazio e al computer che prendeva il controllo dell'astronave e uccideva tutti i componenti della spedizione. Di questo no, però dobbiamo saperlo, dobbiamo agire consapevolmente, questo sì. Perché? Perché appunto nel mondo del lavoro, per esempio, si utilizzano gli algoritmi e l'uomo piano piano viene fatto fuori, ma non viene fatto fuori perché non serve, viene fatto fuori perché l'economia si trasforma e quindi se con gli algoritmi riescono a monitorarci e a scoprire se siamo o non siamo efficienti, ma non perché non lavoriamo, ma magari perché abbiamo in famiglia qualcuno che si è ammalato di una qualche malattia e che quindi potrebbe portare anche noi presto a non essere più efficienti per l'azienda perché anche noi potremmo ammalarci. Cioè, capito, fare questo tipo di previsioni partendo appunto da sempre e comunque dalla analisi e dalla gestione dei dati. Identificare, selezionare, valutare i candidati all'assunzione e più in generale tutti i lavoratori mediante un algoritmo. Dice sì, è vero, l'algoritmo l'ha preparato un uomo o una somma di uomini, ma questi uomini sanno di che cosa stiamo parlando o stanno semplicemente facendo qualcosa che migliori l'efficienza aziendale? Gli algoritmi si occupano del bene comune, sono in grado di tutelare il bene comune? No. Michele ce lo dirà molto chiaramente fra qualche minuto. Attraverso i big data, che sono appunto questa grande mole di dati a cui diamo origine noi stessi, utilizzando i codici di avviamento postale, una roba semplicissima, si escludono i candidati di una particolare origine etnica. Stiamo parlando di selezione di lavoratori. Una sciocchezza. Questo è un algoritmo. Una serie di informazioni che portano alla determinazione di un processo. Sempre utilizzando i big data invece si usano le regole dei giochi. Questa è una teoria che un nostro amico, che avete visto anche nel filmato di prima, che si chiama Pierluca Santoro, da molti anni sta cercando di introdurre nel mondo dell'informazione e del giornalismo la teoria dei giochi applicata al mondo delle teorie. Non ve la sto a raccontare, anche perché non mi permetterei mai, non sono così. Però, insomma, applicando queste regole, mutuate dai videogiochi, si incrementano, ma queste sono cose che vengono già fatte, non è fantascienza, si incrementano le performance personali e dell'impresa. Perché? Perché i videogiochi sono un test, no? Cioè, un posto dove raccogliere dati in maniera enorme. Perché chi non gioca? Quanti di noi non giocano? E attraverso il consumo dei giochi e quindi quello che noi facciamo, come ci comportiamo, gli algoritmi sono in grado di analizzare i nostri comportamenti e di attuare questo tipo di strategie. Qui si va sul personale, informazioni sulle attività personali dei lavoratori, gli acquisti di medicina e prodotti farmaceutici. Siccome compriamo queste cose, o siamo ammalati o ci stiamo per ammalare o potremmo avere in famiglia qualcuno che si ammala. Quindi quali candidati dipendenti in futuro potranno sviluppare complicazioni mediche? E l'algoritmo segnala tagliare, non assumere. Queste sono le regole attualmente in vigore. Sono veramente scarse. Andatevele a guardare con attenzione se volete, andatevele. Questo deve essere il professor Giorgio Ventre che ci sta raggiungendo. Abbiamo veramente poche cose. In Europa c'è questa direttiva che ci protegge, che protegge i nostri dati personali, ma non ha niente rispetto a quello di cui avremmo veramente bisogno. In Italia ancora meno. E tra l'altro alcune delle regole dello statuto dei lavoratori, per esempio, voi sapete, sono state recentemente messe in discussione, se non addirittura mutate. Quindi, senza voler fare le vittime né fare catastrofismo, io vi volevo anche dire che le macchine, nell'ultimo rapporto McKinsey, ci dicono che non hanno tagliato davvero posti di lavoro. Cioè, la previsione è questa. Fra i 400 e gli 800 milioni di persone, da qui al 2030, dovranno cercarsi un lavoro. Però nel contempo, tutto quello che è stato l'apporto dell'automazione nel mondo del lavoro negli ultimi vent'anni, non ha provocato questa diaspora. Casomai, a voler guardare i dati, dopo un iniziale allontanamento, perché alcuni meccanismi, pensiamo per esempio alle banche e all'automazione degli sportelli, i semplici Bancomat. Negli anni 90 sono stati introdotti i Bancomat. I Bancomat hanno fatto sì che molto del personale non avesse più natura, motivo di esserci. Però poi si sono accorti, parlo dell'America, l'Italia forse si è comportata in modo diverso, però poi si sono accorti che con minor numero di dipendenti potevano aprire altre filiali e quindi aumentare la propria presenza sul territorio. All'inizio avevano ridotto il personale, poi i dati ci dimostrano che invece negli ultimi anni sono stati riassunti e addirittura il personale nel mondo bancario in America è aumentato, perché sono state aperte tante nuove filiali, che invece di lavorare con 20 persone di media lavorano con 12 persone di media. Però prima c'erano 100 filiali, adesso ce ne sono 180. Quindi ci sono dati interessanti da questo punto di vista, anche nell'aviazione per esempio. Nel 1997 lavoravano nelle linee aeree, nelle compagnie aeree quasi 650.000 persone. Poi c'è stata la flessione per l'avvento dell'automazione eccetera, ma nel 2017, cioè l'anno scorso, nelle stesse compagnie aeree ci lavoravano quasi 700.000 addetti. Cioè se noi riusciamo ad avere una visione complessiva e soprattutto consapevole di quello che sta accadendo, e poi arriveremo anche al mondo del giornalismo evidentemente, ebbene la questione non è così banale né così semplice da chiarire.